Ricolleghiamoci alla partita di Zema Landia contro Sky Blues, risultato di 3 a 2 per i Sky Blues stagionato il secondo tempo Siamo più o meno al quarto minuto di gioco, nella ripresa non ci sono stati ulteriori gol rispetto al primo Vediamo con le mani di Maestrini, un colpo di tacco di Como ma la palla è per Maione Allarga il gioco per Frezza, attenzione Frezza in area, Frezza, conclusione Maestrini le spinge Testa con le mani, illuminante per Capuano stile Goulam, qui, testa, la conclusione viene respinta Capuano, palla per Maestrini, occhio al destro, palla ancora per Capuano dentro, a giro, Ciccio Como Da lì non sbaglia mai, pazzesco, palla fuori, coreale Avanza, palla per Maione, prova ad allungarsela ai danni di Balzano che negli scontri fisici però E' straordinario Coreale con le mani e sbaglia anche coreale, attenzione Ora è una gara a chi sbaglia la rimessa Testa allora, lui non sbaglia, Capuano, in avanti, cercare Como, chiude Lanza, prova a ripartire Corrado Lanza, cerca e trova Castellano lungo linea ancora per Corrado Lanza Finta, sinistro, è qui da dimenticare Cesare Esposito, porta il pallone, occhio a testa su di lui Poi Maestrini, Frezza in aria, Frezza finta, grande intervento di Balzano Poi Cesare Esposito, va giù Testa, cerca Ciccio Como Ciccio Como, prende il tempo coreale, attenzione Como Poi c'è fallo su De Cicco Attenzione, Frezza dentro, Balzano Prova, Castellano al volo Para, Riccardo Castellano, per Maione Prova ad avanzare, poi la chiusura di Balzano Attenzione, provano lo schema, cosa fa? Ma cosa fa Corrado Lanza? E qui sbaglia Cesare L'ha rimesso la torre, l'ora Capuano con le mani Como, Capuano Punto al suo avversario Anzi, Capuano per Como Va col destro Ciccio Como, buca De Cicco 3-3 Cesare Esposito la battuta con il destro a giro Liccardo controlla Maestrini Cerca Como, palla coreale Di prima per Cesare Esposito L'inserimento di Castellano, Esposito prova Chiude testa, Sepe rinvia Lanza, occhio A un gran destro Col sinistro in mezzo Cercare Frezza, Balzano Poi pallone alzato in aria Sepe Attenzione, c'è un contrasto tra Compagni di squadra Testa col destro Fuori Occhio a Frezza Che però non trova nessuno Allora può ripartire Maestrini Sull'auto di destra Maestrini cerca in aria Occhio che Lanza non ha agganciato Como Destro di Como, De Cicco non trattiene Poi Lanza Spazza via E' proprio sul petto di Frezza Che però Non controlla Lanza Cerca Qualcuno è in aria Trova però l'intervento del portiere Riccardo Poi mette giù la sfera Cerca il lancio lungo con i piedi Ma Petto di Corrado Lanza Maione Ancora Castellano Castellano aggira Maestrini Cesare Esposito Centrale per Frezza Occhio a Bomber Frezza Finta sinistro sul primo palo miracolo Di Liccardo Frezza all'indietro per Coreale Che prova Liccardo la tiene Poi cerca Capuano Mette giù il pallone Capuano Braccato da Maione C'è calcio di punizione Maestrini Se ne incarica Anzi no Lascia Capuano Non velocizza i tempi però lo Zeman Capuano prova direttamente in porta addirittura Liccardo la tiene lì Poi Coreale Era girato Attenzione Sbaglia Coreale Sepe per Como Ancora Como Mezza a due Forse tre Viene chiuso Frezza Una carica Arriva Bazzano E chiude Ciccio Como Sale Capuano Como cerca Capuano Ma l'intervento di Maione Forse Como disturbato dall'arbitro Liccardo con le mani Cerca lunghissimo Capuano Chiude Frezza Prova a ripartire la formazione Sky Blues Palla per Palumbo In area Palumbo Calcio di rigore Intervento scomposto di Testa Calcio di rigore Ma attenzione a Liccardo che lo stava per prendere Il gol di Bomber Frezza dunque 4 a 3 Sky Blues Batte Ciccio Como Destro la soterra De Cicco Castellano Salta due Poi Palumbo Occhio al Mancino Palla in area Esce Liccardo La tiene lì Attenzione a tutto Solo Capuano Liccardo Palla per lui Precisa Tocco di prima e mezzo Coreale Allontana Sotto pressione Coreale Va a parte Palumbo Ma c'è Frezza Cerca Castellano Piede piede di Castellano Attenzione Si riparte Ciccio Como Armai destro Vediamo ancora Como Lo prova De Cicco La tiene lì Poi Lanza Fa salire Palumbo Occhio Si accentra Palumbo Palumbo C'è una doppia carica Ancora Palumbo Testa Coreale Viene ribattuto Il pallone da testa Poi Capuano Servito da Como Avanza Capuano Sterzata Chiude Maglione La rimessa è dello Zeman Tutti in avanti Dice Como Capuano Con le mani Testa salta Spizzata Fuori Testa Palla per Capuano Sistema la sfera Occhio al Mancino Capuano Prova il numero Poi lanza Frezza Cerca Palumbo Tutto solo Palumbo E poi qui Balzano Riesce A contenerlo Ride Palumbo Ma Poteva chiudere la partita Capuano Mancino Occhio De Cicco La tiene lì Poi Maione Castellano dentro Ancora Liccardo La tiene Poi serve Ciccio Como Capo di spazio Per armare il destro Finta su Coreale Verticalizza Calcio ad angolo Capuano Col sinistro Direttamente in porta Ma da lì De Cicco Non può assolutamente Prendere il gol Allora Frezza 3 contro 3 Palla a Castellano Ma velo per Palumbo Palumbo si accentra Di nuovo per Frezza Poi Balzano Poi Balzano Attenzione perché Aveva rischiato il rigore La rimessa E poi Sky Blues Palla a Palumbo Colpo di tacco Verso Lanza Como chiude Parte Como Serve testa Scivolata straordinaria Di Coreale Grande intervento Ancora Como Dentro per Testa Che va giù Capuano prova col sinistro Palla respinta Testa La tiene lì Poi palleggio Ancora testa Cerca spazio Prova col destro Sarà ancora per lo Zeman Che ora mette pressione Vuole conquistare Il punto qualificazione Maestrini Con le mani Salta testa Palla dentro Scede Cicco Palumbo Palla a cambiare Per Castellano Tutto solo Liccardo Straordinario Frezza dentro Per Palumbo Ancora Liccardo Sui piedi Dell'attaccante Straordinario Come sempre Il portiere dello Zeman Maione Poi Palumbo Anzi Castellano Scusate Dentro per Palumbo Ancora Liccardo Ne legge tutte Poi con le mani Verso Ciccio Como che ha spazio Avanza Como Occhio al destro Palla dentro Per testa Como Cerca di là Capuano Maione salta e chiude Maestrini Controlla Alza il pallone Maione col sinistro Così e così Ma riesce a servire Frezza Che ancora è in avanti C'è ancora l'uscita Liccardo Poi Sepe La sterzata di Sepe Palla verso Como Avanza Dentro Testa tutto solo Non riesce A calciare Pazzesco Palumbo Castellano Portavuota 4 a 2 Sky Blues Dimenticato Castellano 5 a 3 Scusate il risultato No 4 a 2 5 a 3 Sempre più 2 Dunque Gli Sky Blues Pazzesco Castellano Era tutto solo In area di rigore Capuano Col mancino Lanza Sepe Recupera Prova a partire Frezza Recupera Poi testa Attenzione al pallone Verso Capuano Decicco Copre Esposito Gran palla Per Palumbo Tutto solo Palumbo Dentro Ancora Castellano Tutto solo 6 a 3 Dilagano Gli Sky Blues Ciccio Como De Cicco Puoi cessare Esposito Dunque Gli Sky Blues Con questa vittoria Non riusciranno A raggiungere I maceteros Sopra Sopra Di un punto Dunque Riusciranno Sicuramente A consolidare Il terzo Posto In classifica Cesare Esposito Attenzione All'Anza Che la gioca All'indietro De Cicco Poi Maione Centralmente Cesare Esposito C'è Frezza Tutto solo Palla In avanti Per Palumbo A giro Fuori Palumbo Non aggancia Testa Copre L'uscita Del portiere Liccardo Con le mani Verso Sepe Sepe Lascia scorrere Prova il tunnel Sul Lanza Riuscito Poi Como Como La scivolata Di Maione C'è fallo Batte Ciccio Como Va con testro Lanza Poi Sepe Portavuota Lanza Super Lanza Palla dentro Sepe Salta De Cinco Sepe Non va Occasionissima Zemanlandia Con Sepe Prima sfortunato Poi però Anzi doppiamento sfortunato Direi Frezza Tutto solo Frezza Fitte Frezza Liccardo Miracolo Poi Palumbo Solo Liccardo Pazzesco Palumbo Fitta Palumbo 7-3 Capuano Col Mancino Ancora Lanza Ormai Deve solo Mettersi i guanti È diventato Un goalkeeper Palumbo Sterzata Ormai è finita La parza Per concludersi La partita 7-3 Risultato però Molto severo Per lo Zemanlandia Intanto c'è stato un cambio Perché è andato De Scicco In avanti Che ora il pallone tra i piedi Numero di De Scicco Liccardo Castellano fuori È andato allora Tra i pali Lanza Come avevamo detto Occhio Capuano Tutto solo Poi va il pallone alto Poi scesare Esposito Mette giù la sfera Controlla Esposito Sepe Chiude Ormai Siamo negli ultimi secondi Della partita Palumbo Dentro Correale Liccardo ancora Maestrini Vediamo se rinvia Noi chiudiamo il collegamento Tra la partita Degli Sky Blues E Zemanlandia Il risultato è di 7-3 E mancano ormai Pochissimi secondi Alla fine